Buongiorno, Don Vincenzo. Uè, buongiorno, Aglio. E che fai a scuola, non vai tu? Ma quale a scuola? In un giorno è diventato come appunto, mamma santissima. E hai a scuola, non era non dispiacere a mamma donna. Tu un giorno ti devi laureare. Non è che io ti ebrei mamma santissima. Ciao. E laurea? Sono tutto disoccupato. Siamo arrivati, Don Vincenzo, è proprio qua giù. Siamo, signor. Ecco pure a fama Giovanna, a fama Giovanna. E voi di là, e voi di là. Buongiorno. 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 Buongiorno, signor. Buongiorno. 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 Eh, dovevate pensarci prima. Quando vi servono i soldi, venite qui a buttarvi in ginocchio e a pregare i santi del paradiso. Facitemi parlare solo a me, voi non parlate mai. Buongiorno. E poi quando si tratta di restituirlo, l'incuse è buona. Non è come dicevo io, no. E che ha la cifra con gli interessi, si è raddoppiata. Insomma, dovevate pensarci prima. Ma l'interesse è troppo alto. Date via. E non ce la faccio. Andate, andate. Andate, andate. Ricordatevi che Matteo mi scadrà. Pensate di provare i soldi. Sì, sarebbe un bello fatende mio. Via, via. Andate via. Buongiorno, non mi c'è. Buongiorno. Don Sabatone Bucca. Sono io. E che disegno? Sono Vincenzo Tramontano. Ah, sì. Ho già sentito il vostro nome. Anch'io il vostro. E che volete? Parlarvi. L'affare? Ma diciamo di sì. Di che si tratta? Si tratta di questi due poveri vaglioni che hanno un debito con voi. Non tengono soldi e non vi possono pagare. Mi sono spiegato. Don Vincenzo. Io so che avete una certa influenza su chi ancora crede a certe girarchie. Ma questo è un banco di pegni. E gli affari che si trattano qui dentro riguardano soltanto me e nessun altro. Sono stato chiaro? Chiarissimo. Avete parlato d'affari, ma la parola giusta adesso ve la dico io. Questo è un furto. Ma... Come vi permettete? Io come mi permetto? Tutte le questioni che toccano la povera gente so cose che riguardano solamente a me. Personalmente. Ma voi venite di insultarmi perfino in casa mia! Perfino! Oreste! Perfino! Ma che sono sti ruifo di enda a merda! Perfino! Guardate! 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 Tieni il corno tu e che la stupo le mamma. Vieni con me, esce fuori. Vieni, vieni. Cado il tuo bambino, guardami. Capito, chiamala. Tornacchia tu, una fama donata per la gente. Overe da Cristo, si chiama Bufla e tieni il corno. Quanto c'era, passi qua? Puoi scendermela lì? Arroba, c'era, si tolta. E stai cadendo, dì. Dì, dì. Se ne è accaduta tutto, merito. E quando chi studiava che merda va cercando le soldi a voi, venite a domenica. Parlate con me. Non lo vavate, si minaccia. Venite a domenica. A te. A te. Bravo, 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 bravo. Buon aiuto.